Welcome to a new age, to a new age, welcome to a new age, to the new age. Uwa uwa o, uwa uwa now, ready, active, ready, active. Ma bentornati cari, bentornati in questo nuovo video ASMR, in cui vi parlerò in close whispering per una sessione di close up ASMR, poiché qualche giorno fa ho festeggiato il mio primo anno di stream. E dunque ho deciso di fare una live diversa e anche di creare un video ASMR diverso, molto più intenso, soprattutto perché voglio aiutarvi un'altra volta a passare un momento estremamente quiet, molto tranquillo e piacevole. Con queste luci credo proprio che vedrete. A parte i miei capelli viola, i capellini vero? E tanto comunque li rifarò, torneranno più viola. Dunque, ok ok ok, sto divagando, ma cerco te per farti rilassare. Dunque rilassati con la mia voce e provo a goderti di questi momenti di close up ASMR. Solitamente il close up è quella tipologia di ASMR che puoi aiutare tanto, perché senti tutta l'intensità della voce e ti puoi godere il momento. Poi, tra le altre cose, stasera ho iniziato questo video catticchiando una delle canzoni che in questo periodo ascolto tanto. Radioactive Imagine Dragons. Lo conosci, vero? Fa sempre piacere ascoltarlo. Ormai è tipo un evergreen. E cavolo quanto è bello. E tra le altre cose. Dunque, l'ascoltavo e pensavo al mio anno di stream. È stato super. un anno di stream. È passato di acqua sotto i ponti. E sono passate tantissime emozioni piacevoli. e ho fatto tanti cambiamenti da quando ho iniziato a partire dalla luce qui dietro fino a finire al microfono. Tutto grazie a voi che mi supportate. E anche tanto, non immaginate quanto, raga, questo video, come tutti i video, li dedico a voi. E spero sempre di farti trovare un momento di estremo relax. Un momento in cui ti puoi sentire al sicuro e ti puoi sentire tanto, tanto coccolato. tanto coccolato perché cerco di rendere tanto piacevole l'esperienza che creo nella sua essenza per poterti alleggeriamente e aiutarti a provare quel formicolio. come questo formicolio attraverso un trigger visuale. sostanzialmente è spesso, non sfumato, non sfumato. bella suonare, bella suonare. e poi relazare, bella suonare, bella suonare. sussata, rilassare, e rilassare, bella suonare. però il topic di questo video riguarda il close-up ASMR. È qualcosa di veramente piacevole. Perché poi, la cosa bella di creare il close-up secola, 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 esattamente che senti la mia voce che gira, tipo a 360 gradi, ed è qualcosa veramente bello, almeno. Ma cerco di creare la bellezza all'interno di una stimolazione sensoriale e cerco di rendere questo momento esattamente intenso. Lo so, stasera ho cambiato anche l'acconciatura dei capelli, lo so, lo so, però anche l'acconciatura dei capelli è una sperimentazione, come tutti i video ASMR che faccio, e in questo qui sto sperimentando una nuova tecnica di sussurri intensi per poterti aiutare a dormire. perché oggi si può rilassare anche un poco, veramente, che poi in realtà, per te, sarà veramente tanto, potrà diventare super piacevole, perché poi la cosa bella è che io solitamente mi intonisco tutti i trigger ASMR insieme, whispering in questo caso, alle volte uso i mouth sounds, come il creare, 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 Oppure ancora, insomma, i mouth sounds sono quei trigger che possono veramente aiutarti a dormire, perché stimolano tantissimo il relax, un po' come questi sussurri, perché no alla fine è sempre bello creare un momento di relax ultra intenso attraverso tutte le tipologie di ASMR. Trigger visuali e suoni si uniscono per creare un connubio di perfezione sensoriale. Solitamente funziona così l'SMR, però questa sera mi dedico comunque al close-up video. A-S-M-R. Come dicevo, durante le mie prime live, ve l'ho detto, le mie prime live erano assolutamente bizzarre, però avevo appena iniziato. Alla fine il mio ASMR è sempre stato una sorta di sperimentazione e non mi sono mai fermato per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che poteva piacere a te e che stai ascoltando i miei sussurri. E quindi l'idea del mio ASMR è ovviamente il benessere che cerco di fornirti. E dunque in questo è insomma era tanto il chiacchiericcio, ma magari non troppo. E che solitamente parlo, parlo tanto. Anche quando faccio la live si è più o meno quello. Non vero scherzo, alle volte faccio anche due ore di live, no talking, solo con i trigger, che è più o meno. Wow. Quella è sempre piacevole. Poiché oggi si può rilassare tanto e può diventare una vera esperienza super intensa. Solitamente uso questi qui, che sono i miei tingles, uno dei trigger che adoro e che mi piace sempre riprodurre. Sì, lo so, sto un po' barando. Perché te l'ho promesso, questo è un close up ASMR, però alla fine come non resistere ai trigger ASMR? È fantastico poter ascoltare dei trigger, o vedere dei trigger visuali. a me piace sempre. Veramente, voi non immaginate, voi non immaginate quante volte rischio di addormentarmi durante il montaggio di un mio video, oppure anche durante la creazione di un video. E faccio tanta fatica per restare sveglio. Veramente, tutto questo per la passione verso l'arte dell'ASMR. Almeno io la vedo così. ma soprattutto per aiutarvi a trovare il relax che cercavate. E tutte le volte che sto qui davanti e cerco di creare qualcosa di nuovo. Lo faccio assolutamente per te. Che ascolti e che vorresti trovare un ambiente molto confortevole qui. E con i miei sussurri, close up, cerco di scacciare via. Ho tutti i brutti pensieri negativi. Tutti quelli che durante la giornata ti hanno comunque fatto stare non un gran che bene. Certo, ovviamente. Tutte le giornate rappresentano degli alti e bassi. Non ci possiamo fare nulla. Alla fine si riesce sempre a superare la giornata. E' una cosa che succede. E' sempre così. Altissimi, bassissimi. E' un po' vagamente simile come la legge di Murphy è presente. Ecco, più o meno quello. Tuttavia, si possono sempre scacciare tutti i brutti pensieri. E si può vedere il mondo seguendo un'altra chiave di lettura. E si, ok, però non sono qui per fare un trattato filosofico. E si, studiavo tanta filosofia. Ma prima di tutto, tu che stai cercando il relax, spero ovviamente di poterti aiutare a rilassare un attimo la mente. Col close up ASMR super intenso può diventare qualcosa di veramente efficiente per poterti aiutare a dormire. Ecco, per esempio così. Questo secondo me è un ASMR super close up. Ora vediamo se riesco ad aiutarti come veramente. Ultra intensifies ASMR. Perché i trigger visuali possono aiutare tanto durante il close up perché, aspetta, una delle prime cose da poter fare durante l'ascolto del close up ASMR è quello di iniziare a chiudere gli occhi. E sicuramente sarai a letto. Questo è sicuro. Però prova a chiudere gli occhi ed ascoltare soltanto la mia voce. che cerca di fornirti un angolo di benessere super 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 confortevole. Quell'angolo di benessere che ti può aiutare a togliere tutti i pensieri negativi alla fine. Può essere un attimo. Un attimo davvero piacevole. Un attimo in cui tu puoi trovare la tua identità e puoi lasciarti avvolgere da tutte le sensazioni comportevoli. Come il formicolio e i prividi sono le prime due tipologie di sensazioni che si possono provare quando si approfondisce un momento di super relax sensoriale. I suoni danno il loro contributo e nulla da dire. E infatti i sussurri possono anche guidare verso la strada del sonno. e un attimo. E puoi ritrovarti a letto. Tanto, tanto, tanto. Rilassante. Tanto, tanto, tanto. Rilassato. 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 Ti potrai trovare in un ambiente confortevole. E' questo quello che serve a fine giornata. E lavare i brutti pensieri nella mente. E trovare un ambiente che possa fare qualcosa tuo. ed è questo che riesci a trovare in questo video-smart. Dunque, ti aiuto in questi attimi. a trovare quella stimolazione sensoriale perfetta che ti può servire per dormire in un attimo e ti può addormentare. Ormai ci sto facendo l'abitudine a parlare così. E' divertente. E devo dire che comunque anche io mi sto rilassando. Pertanto, questo è il momento in cui, piano piano, ti accorgerai che stai provando il formicolio. con i priviti dell'ASMR. Con le stimolazioni visuali e i suoni. La mia voce che ti guida durante l'esperienza dell'ASMR. è un attimo. E ti potrai sentire in un ambiente confrutevole. Lo sai. e ringrazio a te per il supporto. Ringrazio a te per essere qui. e spero di ricambiare il tuo supporto con un attimo di relax intenso. anche solo con la voce che ti guida verso il sonno e verso un ambiente tanto, tanto, tanto rilassante. rilassante. L'ASMR che creo serve proprio per creare quell'ambiente. e con il close whispering. Vi fa ridere. Che mi metto così per farti sentire il close whispering nel modo più intenso. perché così è tipo tutto. il suono resta qui. e quindi lo senti tanto più intenso per tanto, per tanto e per tanto che ormai è diventato il mio intercalare. il pertanto di aiuto. Lo spero comunque di averti fornito un attimo di stimolazione sensoriale con i sussurri per poter dormire. e davvero ti ringrazio per questo percorso che mi hai consentito di fare durante il mio primo anno di stream e il mio primo anno su youtube. ti ringrazio davvero 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 per tanto per tanto. aspetta aspetta e cambiamo intercalare. inoltre puoi rilassarti con qualche altro suono che creo durante questo close up ASMR. Andiamo un attimo con lo scratching. Tanto ormai io odoro lo scratching. sai perché? perché io do tanto a creare quel mood ASMR davvero super duper efficace. però guarda ho cambiato intercalare. però 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 ringrazio tantissimo te per il supporto davvero. e dunque rilassati con i miei suoni, con i sussurri e con tutti i trigger che creo per te. dunque rilassati con me e trovi il tuo spazio nella mente. questo è quello che cerco di fare tutte le volte che sto qui. cerco proprio di aiutarti a togliere via tutti i pensieri che non ti piacciono. i pensieri negativi non piacciono a nessuno. e dunque le schiacciamo via uno, via due. prendiamo appugni i pensieri negativi. e si può fare così. e in una maniera migliore. dunque ti ringrazio ancora. non so quante volte ti ho ringraziato. però ti ringrazio e spero di farti fatto rilassare almeno un attimo con questo close up ASMR che può esserti d'aiuto per poter iniziare una nuova giornata. perché ricordiamo che iniziare una giornata nel modo migliore quindi col benessere nella mente aiuta tanto ad affrontare tutto il resto del giorno. almeno questo è il mio modo superante. ma credo proprio che sarà anche il tuo per forza. e te lo dico inoltre close up ASMR. però è arrivata l'ora di salutarci. e ti auguro la buonanotte. e spero di rivederti presto. ovviamente io creerò altri video per te. e ti potrei rilassare con tutto quello che posso sperimentare. grazie davvero per il supporto. dunque ti auguro la buonanotte. il close up super intenso. buonanotte. buonanotte. e ancora buonanotte. oh wait. ricordati di supportare il canale. e ricordati di respirare. ricordati di respirare. perché puoi dormire bene. è meglio. se comunque respiri. ispira. ed espira. e un attimo. ti auguro la buonanotte parte 2. buonanotte. 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 buonanotte.